Martedì 7 maggio, buongiorno, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV, questa è la rassegna stampa sul canale 17, tra poco vedremo una selezione delle notizie più importanti sui quotidiani, il Corriere Adriatico e il resto del Carlino. Andiamo velocemente questa mattina perché dobbiamo dare subito la linea al Centro Televisivo Vaticano, al Media Center per la diretta del Papa che durerà fino alle 13 di questa mattina, quindi tutta la mattinata sarà dedicata al viaggio di Papa Francesco in Macedonia del Nord, in questa diretta ci sarà anche la Santa Messa. Andiamo a vedere il santo di oggi a proposito, con Santa Rosa Venerini, oggi una delle tante figure sante, santi che la Chiesa ricorda, è nata a Viterbo nel 1656. Il sole è sorto alle 5.51, tramonterà alle 20.18, vediamo il tempo, oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso, con temperature in diminuzione quelle della notte, in aumento nei valori massimi, il tempo ancora si mantiene variabile nella giornata per la giornata di domani, mercoledì 8, ma giovedì 9 cambia, con l'arrivo di alcuni rovesciotemporali sparsi, soprattutto nel pomeriggio e localmente saranno anche di forte intensità. Poi per venerdì e sabato dovrebbe essere ancora tempo buono e il tempo peggiorerà invece, forse probabilmente nella giornata di domenica, ma le previsioni sono ancora incerte. Adesso andiamo a vedere i giornali, cominciamo dal resto del Carlino, questa è la fotonotizia per Alessia Morani, la deputata del Partito Democratico. Alessia non perdona, lei è stata linciata sui social e ha risposto dicendo liquerelo tutti quanti. E poi sempre in prima pagina, Fano in pieno caos, il presidente Gabellini dopo la retrocessione in Serie D dice addio, mentre la neve che è caduta a maggio, ci sono questa mattina degli scenari meravigliosi nell'entroterra con le vette dei Monti Appennini completamente innevate e illuminate da alcuni raggi di sole. Il termometro scende, i prezzi della frutta invece salgono. E poi nelle pagine interne troverete anche la storia di Davide Vitali che sta correndo nel deserto, 256 chilometri, in una ultramaratona incredibile. Poi a Fano arriva il vice premier Matteo Salvini, antagonisti pronti a contestare, lo vedremo tra poco nelle pagine interne. Intanto la pagina di Fano, l'aggiornamento per quanto riguarda l'agguato di Pasquetta, parliamo di Matteo Cicerchia che lo ricorderete appunto nel giorno di Pasquetta portò la ex compagna Elisa Furlani e la figlia in strada San Nicola a Trebbiantico nel Pesarese con la scusa di mostrare alla piccola bimba i cavalli, invece una volta sul posto aggredì la sua ex compagna cercando di strangolarla e investirla. Poi l'arrivo di un residente salvò la vita ad entrambe. Ed ora il titolo è Agguato di Pasquetta, il papà chiederò scusa a mia figlia e la mia ex compagna, per lui è stata chiesta la perizia psichiatrica. Matteo, dice il suo avvocato Orciani, si è reso perfettamente conto a distanza di tempo di che cosa abbia compiuto, di che cosa abbia fatto e del perché, di cosa è accaduto quel giorno. Attualmente Matteo è seguito da una psichiatra del carcere, la sorella invece Sara ha inviato un messaggio di scusa a Elisa e anche a Gabriele Ottaviani, che è il residente che l'ha portata in casa e quindi l'ha salvata, chiedendo come stesse e ribadendo le sue scuse per quanto accaduto. Intanto il datore di lavoro, scrive il Carlino questa mattina di Matteo, lo ha licenziato a malincuore e dice lo riassumerò dopo che sarà uscito dal carcere. Ma si parla oggi anche del delitto Malipiero, delitto avvenuto il 13 luglio dell'anno scorso, dove fu uccisa Sabrina Malipiero, pesarese di 52 anni, commessa in un supermercato, madre di due figli, residente in via Pantano a Pesaro. Ieri in aula ha parlato anche Zaccaria Safri, 38enne all'epoca dei fatti, marocchino amico della Malipiero e accusato di omicidio volontario aggravato da futili motivi. E lui racconta, intanto sono state mostrate le foto shock dell'autopsia proiettate in aula per ricostruire l'omicidio, quindi potete immaginare insomma anche lo strazio e tutto quello che in un'aula può essere sviscerato, può essere raccontato nei dettagli e nei minimi particolari. Poi sotto c'è la deposizione appunto dell'imputato e ha raccontato dicendo era lei che aveva debiti con me e io vi assicuro non sono un mostro. Poi lui racconta una storia di droga, di spaccio, le davo 50-70 grammi a settimana per 70 euro al grammo, ma a maggio del 2018 dice ho smesso di dargliela perché restava indietro nel pagamento di 2.500 euro per una partita che invece le prende il suo compagno. Poi racconta nel dettaglio di essersi fermato a comprare le sigarette, sono poi entrato in casa di Sabrina, l'ho trovata a terra nel sangue, le ho sfilato il coltello dal collo, c'era un solo coltello, lei voleva dire qualcosa, poi invece in realtà è morta. Insomma tutto il racconto nella pagina dettagliata del resto del canino di questa mattina. Così come si racconta a pagina 7 del Carlino di Pesaro di una mail arrivata ad un amico che però lo ha insospettito e quindi ha chiamato i carabinieri. È una mail sospetta che ha scatenato appunto l'allarme suicidio. I carabinieri scoprono che però nessuno in realtà voleva ammazzarsi, voleva uccidersi. L'uomo però è stato per un po' ricoverato in psichiatria per evitare sottovalutazioni. Il medico ha escluso turbe psichiche e quindi lo ha dimesso. Si tratta di un quarantenne che è residente in zona Loreto. La Fanno Grosseto invece affoga nella burocrazia, lavori infiniti, saranno spostati al 2022. Lo ha annunciato l'ex viceministro delle infrastrutture e dei trasporti all'epoca del governo Renzi, del Partito Socialista, il senatore Riccardo Nincini. Tutto quanto concordato con Renzi e Gentiloni, ha detto Nincini, è stato posticipato da questo governo. E di questo governo, un rappresentante di questo governo arriverà a Fano, così come a Pesero, tra poco, tra qualche giorno. Giovedì arriva Salvini a Fano, in piazza 20 Settembre, sarà una piazza blindata. Nel 2016, qualcuno lo ricorderà, fu contestato dai centri sociali. Matteo Salvini arriverà intorno a mezzogiorno, in piazza 20 Settembre, dove c'è anche la sede del candidato della coalizione di centrodestra, Lucia Tarsi. Ovviamente ci saranno i vertici del partito marchigiano. Salvini in questi due giorni nelle Marche, mercoledì 8, giovedì 9 maggio, farà ben sei tappe. Prima di arrivare a Fano sarà a Pesero, alle 10.30, in piazza del popolo. Ovviamente sono misure di sicurezza straordinarie, sono stati rimossi tutti i cestini, ci sarà il divieto di somministrare alcolici e pattuglie di forza dell'ordine un po' ovunque. Adesso invece parliamo un attimo del maltempo, ma per farvi vedere queste due pagine del resto del capitolo di questa mattina, maggio con la neve, abbiamo queste temperature che sono andate veramente al di sotto di anche 15 gradi, una primavera mai così fredda come negli ultimi 60 anni, l'allarme di Coldiretti e della CIA, sono le due associazioni di categoria che si occupano di agricoltori. Ecco le conseguenze, le conseguenze sono in particolar modo anche per quanto riguarda i prezzi, al di là della frutta e della verdura che insomma si trova un po' meno. Fragole e asparagi, impennata di prezzi, ritocchi di verdura e frutta, che per il freddo naturale matura tardi, un giro hanno fatto quelli del resto del Carlino al mercato delle erbe. Intanto sui monti la coltre nevosa arriva a 20 centimetri, in questo mese non succedeva dal 1957. Queste sono le due pagine del resto del Carlino. L'allarme economia invece è congiuntura da brividi, nessuno ci ascolta, parla Bordoni della CNA provinciale, dice persi mille posti di lavoro in tre mesi. Questa invece è la prima pagina del resto del Carlino. Formazione per 25 medici, più professionisti alla POTES. Il bando regionale prevede questa dotazione per l'area vasta numero uno, ma non convince tutti. A centro pagina lascio il fano nelle mani del sindaco, il presidente Gabellini annuncia l'addio dopo la retrocessione dei Granata in serie D. Il futuro diventa dunque un rebus dopo otto anni di gestione. Quanto guadagnano i consiglieri regionali? Se siete curiosi acquistate il Corriere Adriatico di questa mattina perché c'è una pagina dedicata appunto agli stipendi dei consiglieri regionali. E qui c'è tutta la lista che potete sbirciare, snocciolare uno dietro l'altro. Allora intanto c'è nell'esecutivo la presidenza del Consiglio, Antonio Mastro Vincenzo, che è il presidente del PD, ha dichiarato 71.713 euro. Renato Claudio Minardi, vicepresidente del PD, fanese, 56.156 euro. E poi il vicepresidente di Forza Italia, Pietro Piero Celani, 48.125. Luca Ceriscioli guadagna 73.000 euro e rotti. E poi c'è, ci sono gli assessori ovviamente, e chi guadagna di più è in consiglio, ed è Fabrizio Volpini con 129.000 euro. Poi c'è per esempio Mirko Carloni, anche lui fanese, 93.197 euro. E andando sopra, uniti per le marche, Boris Rapa, 49.641. Insomma ci sono tutti, potete leggerli tutti quanti. Con la serie D se ne va Gabellini, lascio il fan al sindaco. Dopo otto anni il presidente annuncia il suo disimpegno dal club Granata. Da imprenditore penso che l'alma abbia un senso progettuale solo se esprime le aspirazioni della città. E sicuramente c'è questo striscione. Oltre ai cori che si sono sentiti, ma che sono frutto insomma anche della rabbia magari di quel momento, dell'emozione di quel momento, però c'è questo striscione che ovviamente non è stato preparato lì per lì, è stato pensato e poi esposto al momento opportuno, è quello che probabilmente è stata la goccia che ha fatto traboccare il cosiddetto vaso della pazienza. E poi da Fano, l'edilizia ancora in crisi, attese per il piano ERAP. La filea CGL riporta i dati della stagnazione. Una spinta arriva invece dalle manutenzioni. E poi ancora, velocemente, assegnati i lavori della palatrave, alto 10 metri e dietro la palestra. Risolta positivamente la verifica dopo il maxi ribasso d'asta. Mancano solo gli spogliatoi. L'impianto a servizio della Virtus è di tre scuole. Duro scontro però con i residenti che ovviamente non lo vogliono. E poi da Senigallia, bar a rischio per la furia del mare. Marina di Montemarciano, spiaggia sempre più erosa sopra il luogo dell'ufficio marittimo. Mengucci dice sono costretto a pagarmi blocchi di cemento per non veder sparire la mia attività. E sotto da Senigallia è morto da 84 anni Sergio Rossetti, ex presidente del Rotary, un veterano del club senigalliese. La camera ardente è stata allestita all'obitorio del cimitero dove oggi il feretro partirà per raggiungere la cattedrale. Poi alle 15 in cattedrale appunto si terrà la cerimonia funebre. Nell'auto invece a Montemarciano i carabinieri hanno trovato dischi, guanti e lime. Voleva forzare le casse forti. Un pregiudicato bergamasco è stato bloccato dai carabinieri appunto a Montemarciano. Velocemente le ultime due notizie. Da Urbino a Mianto non conclusi gli interventi di bonifica. Sopra luogo del centro-sinistra a Canavaccio e denuncia per la sede dell'ex Oscar. E poi l'ultima pagina dalla Valle del Metauro. La storia, la storia di un forse empronese che è andato 30 anni fa fondò un club. Tra l'altro Walter Luzzi fondatore del Cembli scomparso l'anno scorso in terra francese all'insegna del calcio con ottimi risultati. Una storia singolare, una bella storia che viene raccontata questa mattina sul Corriere Adriatico. fondò questo club 30 anni fa che dopo 12 promozioni è adesso in seconda serie. Che è un bel risultato. Noi ci fermiamo qui. La rassegna stampa è finita. Grazie per essere stati con noi. Vi auguro una buona giornata. Questo è il numero per le vostre segnalazioni. Vi ricordo che questa sera alle 20.30 c'è il telegiornale. Occhio alla notizia. Arrivederci. Grazie a tutti.